bene domenica iniziamo la prima di campionato siamo sul campo di verona dove secondo noi è una delle squadre candidate al salto di categoria è una squadra molto esperta giochiamo fuori casa la prima abbiamo riposato e loro vengono da una sconfitta sicuramente saranno ancora più arrabbiati cercheremo di fare una buona gara e vediamo un attimino i miglioramenti che siamo riusciti a fare durante durante quel primo periodo qua con me c'è martina suggio che è il ruolo opposto e voglio chiedergli soltanto una cosa velocemente sei nervosa per l'esordio sì sono nervosa ma comunque avendo degli allenatori e delle compagne che mi aiutano in questa esperienza sono più tranquilla bene ok allora vi aspettiamo tutti al palazzetto domenica grazie